L'equilibrio è essenziale per creare arte e armonia. Soprattutto oggi, la moda deve aprirsi a diverse collaborazioni, per creare sinergie e storytelling. La collaborazione con Oppo nasce da valori e obiettivi condivisi, ispirare contributi positivi e partecipare al cambiamento della nostra società e del mondo. Il Raffle Tool è il segno distintivo della collezione, un materiale che trasforma l'ordinario in straordinario. È perfetto per mettere in risalto la brillantezza dello schermo, della nuova cover del Find N2 Flip di Oppo. Così lo abbiamo scelto per creare la Raffle Bag Porta Telefono Personalizzata. Per creare questo accessorio in armonia con la collezione, avevamo bisogno di leggerezza, colore, trasparenza e volume. Art No.1 lavora con una palette di colori intensi e un design all'avanguardia, caratteristiche forti di entrambi i marchi. I colori di Find N2 Flip, Moonlit Purple e Astral Black, il sottile motivo ondulato sul meccanismo della cerniera e le texture di Oppo lo rendono un autentico accessorio tecnologico alla moda. La visione comune che unisce Act No.1 e Oppo è il perfetto equilibrio tra innovazione ed eleganza, creatività libera e funzionalità, interiorità ed estetica, potenza e leggerezza.